Continua lo scontro sulla riconversione in Covid Hospital dell'Andolfi di Solofra. Il direttore generale e l'azienda ospedaliera Moscati, Renato Pizzuti, non ha concesso nulla ai sindaci di Montoro, Serino e Solofra. La regione infatti ha imposto una disponibilità di 103 posti letto Covid. Di questi, 49 già esistono al Covid Hospital di Avellino, 18 sono nel reparto di malattie infettive. I rimanenti 36 andranno a Solofra. Ma i primi cittadini non ci stanno, pretendendo pareri e verbali e la commissione tecnica multidisciplinare dell'ASL, organo competenti a tali accertamenti. Dopo la call conference di ieri, i tre sindaci si sono detti molto amareggiati per l'esito di un confronto che è parso più una presa in giro, opponendosi alla decisione, in quanto per far posto ai Covid saranno sospese le attività di medicina e chirurgia, ortopedia, ossetricia e ginecologia, nonché pediatria. Per scongiore l'ipotesi, avevano proposto che tutti i Covid fossero gestiti ad Avellino, l'utilizzo dell'ex ospedale Maffucci di adibire solo il terzo piano dell'ospedale di Solofra alla degenza Covid per non compromettere le altre attività. Mentre i sindaci però discutevano con Pizzuti, il direttore, medico del presidio del Moscati, Vincenzo Castaldo, e il responsabile dell'area tecnica, Sergio Casarella, erano impegnati in un sopralluogo all'Andolfi per definire la disposizione dei posti letto. La direzione strategica del Moscati, in una nota, ha illustrato i dettagli dell'operazione. Nel giro di qualche giorno, si legge, saranno destinati circa 40 posti letto, individuati al secondo piano del presidio Solofrano, a pazienti positivi al nuovo coronavirus, meno complessi. Nell'area Covid dell'Andolfi saranno in servizio medici ed infermieri, attualmente assegnati all'unità operativa di medicina generale, ai quali andranno ad aggiungersi tre medici specialisti messi a disposizione della protezione civile, quattro assunti con contratti di collaborazione, nonché alcuni medici specialisti di Contrada Moretta. Nel presidio resteranno regolarmente attive radiologia, laboratorio analisi, farmacia, nonché la dialisi e il servizio psichiatrico dell'Asla Vellino. Il manager Pizzuti sottolinea, è nostra volontà a portare avanti un'azione di rilancio dell'Andolfi. L'attuale situazione di emergenza non ci distoglierà dal far avanzare i progetti di ristrutturazione di messa in sicurezza. È stato anche avviato l'ITER per la realizzazione di quattro posti di terapia intensiva.